Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi della Lazio di Tudor Ieri non è uscita la live reaction come alcuni di voi avranno potuto notare Io sono stato a Torino ma non c'è stata una live reaction da caricare su Youtube perché il settore ospiti non ha neanche cantato, la Curva Nord non ha neanche cantato perché che cosa è successo? Allo stadio non hanno fatto entrare delle pezze importanti la pezza di Diabolik, la pezza di Pluto, la pezza di Gabriele Sandri infatti gli unici cori che sono stati intonati erano quelli per Gabriele erano quelli per Gabriele e non sono stati fatti entrare neanche alcuni ultras quindi la Curva Nord ha deciso di non cantare e quindi non c'è stata una live reaction effettiva da poter pubblicare su Youtube infatti non vedo l'ora che arrivi sabato perché sento proprio il bisogno di cantare sento proprio il bisogno di sostenere la Lazio è un bisogno fisiologico del quale non riesco assolutamente a fare a meno Tudor ha detto una cosa che mi è piaciuta molto nella conferenza stampa post Juventus-Lazio e vi farò ascoltare lo spezzone non ci dite a riaccedere, lo sono accesi da primo giorno fino ad oggi sono molto accesi come ho già detto la mia analisi di gara ci sta che vieni qua una Juve che vede il trofeo oggi era totalmente un'altra cioè questa loro fisicità, la loro camera qua era molto difficile poi come ho detto giocare dopo tre giorni là e qua non è uguale per i giocatori della Lazio o per i giocatori della Juve perché le cilindrate sono un po' diverse le cilindrate sono un po' diverse non è facile giocare a distanza di tre giorni là e qua per i giocatori della Lazio rispetto a quelli della Juventus le cilindrate sono un po' diverse che cosa vi ricordano queste dichiarazioni? le stesse identiche cose che diceva spesso e volentieri Sarri ai microfoni quando parlava di cilindrata mentale Tudor nel giro di due settimane ha capito qual è il vero problema che perseguita la SS Lazio un discorso di cilindrata mentale a me rode tantissimo il culo ok scusate il termine rode tantissimo leggere tifosi della Lazio che criticano Tudor per la partita di Torino contro la Juventus l'unica critica che può essere mossa a Tudor è quella sui cambi i cambi che andavano fatti prima Immobile e Luis Alberto dovevano uscire 15 minuti prima dovevano uscire subito dopo il gol del 1-0 non subito dopo il gol del 2-0 perché il 2-0 andava evitato e secondo me poteva essere evitato infatti quei 15 minuti in cui sono rimasti in campo tutti e due hanno coinciso perfettamente con il miglior momento della Juventus e il peggior momento della Lazio quello successivo al gol dell'1-0 andavano sostituiti prima e secondo me se fossero stati sostituiti prima la Lazio avrebbe anche evitato di subire così tanto la Juventus in quel frangente e di subire anche il gol del 2-0 probabilmente la partita sarebbe finita 1-0 ma questo è un pensiero mio ma è l'unica critica che può essere mossa veramente a Tudor per la partita di Torino ma io leggo critiche sull'aspetto tattico della Lazio ma di che cosa stiamo parlando noi tifosi della Lazio cadiamo sempre negli stessi errori siamo esattamente come i giocatori della Lazio cadiamo sempre negli stessi errori se criticate Tudor per la partita di Torino vuol dire che continuate a non capire nulla sulla squadra che seguite sulla squadra che seguite tutte le settimane la cilindrata mentale la cilindrata mentale ci sono alcuni calciatori della Lazio molti calciatori della Lazio che non riescono a reggere proprio mentalmente il doppio impegno la doppia partita in 4 giorni soprattutto come una squadra contro la Juventus che invece è più abituata a questo perché ce l'ha nel DNA e l'esempio emblematico per quanto mi riguarda è Casale l'esempio emblematico di questo concetto è che è stato portato avanti dall'allenatore precedente e viene portato avanti anche adesso da Tudor l'esempio emblematico è Casale un giocatore in grado di fare una partita a mio avviso monumentale sabato sera contro la Juventus in casa dopo 4 giorni anzi dopo dopo 3 giorni abbiamo giocato dopo 3 giorni dopo 3 giorni entra in campo nel secondo tempo e rovina tutto perché Casale ha rovinato tutto è lui il responsabile principale di entrambi i gol soprattutto del primo soprattutto del primo che si perde completamente l'inserimento di Chiesa è questo un calciatore non in grado di giocare due partite di livello in 4 giorni contro la Juventus e come Casale ce ne sono anche altri io ho sentito gente prendersela con il pressing alto della Lazio per il gol dell'1-0 per il pressing alto di Tudor ma no cioè lì si sbaglia Felipe Anderson su Cambiaso ad andare in pressing su Cambiaso sbaglia totalmente i tempi ma la Lazio è schierata la Lazio è a difesa schierata cioè lì sbaglia il posizionamento Casale quello è un errore individuale di Casale per quanto mi riguarda ok? non c'entra niente il pressing alto della Lazio il pressing alto di Tudor sul gol dell'1-0 quindi ci sono alcuni calciatori che non riescono a reggere proprio mentalmente il fatto di giocare così spesso partite così importanti ci sono invece altri calciatori che riescono come Gendusi come Kamada Kamada è entrato molto bene a Torino sono molto soddisfatto dell'entrata in campo di Kamada a Torino questi sono calciatori abituati a giocare un certo tipo di partite e a giocare e a tenere alte le energie mentali a distanza di pochi giorni sono abituati molti altri calciatori della Lazio non lo sono non lo sono come Romagnoli come lo stesso Casale non lo sono è un discorso talmente semplice e sono contento che Tudor lo abbia capito a distanza di 14 giorni sono molto contento ragazzi iniziamo a concentrarci su quelli che sono i veri problemi della Lazio invece di continuare a fare le guerre contro gli allenatori anche anche nei confronti di un allenatore che è sulla panchina da due settimane ok ora derby tra due giorni si entra ufficialmente in clima derby ditemi cosa ne pensate nei commenti mettete un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto noi ci vediamo successivamente ciao ragazzi forza Lazio